Ben trovati amici di Vox Libri, collegamento internazionale perché questa bellissima donna dal sorriso disarmante, Patrizia Sette Ducati, addirittura è a Malaga, ciao! Ciao a tutti! Come stai? Molto bene, molto bene. Patrizia, tu sei veramente un faro per tanti perché ti scopriranno durante questa intervista perché Patrizia dovrei sapere, una grandissima stilista apprezzata in tutto il mondo, se vuoi puoi anche nominare i marchi per i quali hai lavorato, però ad un tratto, trac, la vita, il quadro cade e cambia vita. Sì, 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 esattamente così, infatti è proprio accaduto questo, io ero una stilista fermata, ho lavorato anche a Parigi per Givenchy, per tanti marchi famosi, adesso non sto a citarli tutti, ho girato per il mondo però sentivo che dentro di me mancava qualcosa, sentivo che non stavo facendo la vita per la quale ero venuta qui, mi ero incarnata e sentivo che non potevo andare avanti così, quindi a un certo punto ho proprio cominciato a sentire che dovevo cambiare la mia strada, dovevo cambiare vita e l'ho fatto, anche se tutte le persone attorno a me erano ovviamente discordanti perché già facevo un lavoro strano ad una stilista, dai, già fai un lavoro fuori dal comune e a un certo punto addirittura ho iniziato a lavorare con le persone, con le persone per aiutarle a trovare il loro cammino, a liberarsi dai limiti. Ecco, da qui nasce l'idea di scrivere e di regalare a tutti noi il tuo libro. Sì, sì, sì. Che ha il titolo internazionale, no? Sì, sì, il titolo Divine Connection è un titolo diciamo che è stato proprio ispirato, non l'ho scelto io, è stato proprio ispirato ed è un libro che, come possiamo dire, è arrivato, non ho neanche scelto di scriverlo, come in passato non avevo scelto di parlare in pubblico, di tenere corsi, seminari, ma ho sentito che quella era la strada giusta e quindi visto che la strada e la missione per la quale sono qui è molto più importante di me e di quello che vorrei come persona singola, perché non possiamo essere guidati solo dalle nostre paure, ma anche dalla nostra ispirazione, da quello che è importante per noi ed è importante portare alle altre persone. Vabbè, Patrizia, tu ci sei riuscita, quindi grandissima, veramente complimenti, ma il tuo libro deve servire a quelli che magari sono ancora ancorati alla vecchia vita, magari che vogliono cambiarla, che dentro hanno voglia e la forza di farlo, ma molto spesso questa forza viene oscurata. Quindi come si fa? Il tuo libro a chi deve servire? Ok, è un libro che può servire veramente a tutti, per quanto io in passato ho seguito persone molto, diciamo che avevano già fatto tanti percorsi, questo è un libro che dà la possibilità a tutti di cambiare, perché è molto facile, anche nelle prime conferenze in cui ho portato a conoscenza questo metodo, le persone sono riuscite ad entrare in connessione con il divino e a sciogliere delle paure in massimo 8 minuti, cioè è una cosa incredibile, in 8 minuti sì sì, io ti dico ho fatto degli esperimenti con le persone e sono riuscite a fare tutto questo, perché in questo metodo è molto molto semplice, è immediato ed è molto pratico, questo ci tendo a sottolinearlo, perché ovviamente non ha senso meditare, non ha senso fare tante cose se poi non abbiamo dei svolti pratici nella nostra vita, se la nostra vita non cambia, tutto quello che stiamo facendo non sta servendo a niente. Patrizia, del metodo ne parliamo dopo lo stacco, ma prima di distaccare alla regia, i contenuti multimediali come entrano nel tuo libro? Ah sì, beh, questo è un librone perché è un libro corso dove all'interno c'è il metodo per intero, non è che trovate un pezzo del metodo, c'è il metodo intero, in più, visto che non mi bastava, ho trovato anche il modo di inserire tutta una serie di cose di approfondimento, che sono video di approfondimento, schede tecniche e anche molte delle meditazioni, dei lavori che sono contenuti nel libro, in più c'è l'audiolibro. Nel metodo ne parliamo dopo lo stacco alla regia, non andare via, non sparire. Non ti muovo, non ti muovo. Torniamo subito, linea alla regia. Porto Ceresio si tinge di giallo, scrivi romanzi o racconti gialli, thriller, polizieschi o noir, partecipa al concorso letterario internazionale Giallo Ceresio. Puoi partecipare con narrativa edita dal 1 gennaio 2017 al 31 marzio 2019, oppure con racconti gialli ambientati sui laghi, da inviare entro il 31 maggio 2019. Scarica il regolamento su www.comune.portoceresio.va.it o seguici sulla pagina Facebook Giallo Ceresio o su Instagram Giallo Ceresio. I premi? Molto interessanti! Partecipa al concorso letterario internazionale Giallo Ceresio! Il regolamento è su www.comune.portoceresio.va.it Cosa aspetti? Ben ritrovati amici di Vox Libri, in collegamento Skype con Patrizia Sette Ducati che io mi sta stregando, quindi poi mi dirai se cambierò anch'io vita, se me ne vado da qui. Ma guarda, tu stai facendo già una cosa meravigliosa, chi lo sa se c'è ancora altro per te. Grazie, grazie mille. Quando leggerai il libro te ne accorgerai. Ovviamente, però Patrizia adesso io ti sfido. Tutti parlano di cambiare vita, tutti parlano di metodi, tutti parlano di libri, corsi, di VD, ci fanno comprare chi più ne ha chi ne metta. Ora, Patrizia Sette Ducati, vai a te la camera, inizia a parlare del tuo metodo. Sì, questo metodo è veramente magico, perché prima di arrivare a questo metodo, che è un metodo che proprio mi è arrivato, ho veramente studiato di tutto. Questo metodo è diverso dagli altri e infatti io sfido le persone ad utilizzarlo. Tante persone hanno cambiato vita perché è veramente semplice. Persone che non hanno mai fatto niente del genere. Perché? Perché questo metodo in pochi passi, molto semplicemente, permette alle persone di cambiare stato, di entrare in uno stato assoluto dove entrano in connessione con la verità. Noi viviamo due stati, amore e paura. E il metodo è molto semplice, quando tu entri in questo stato e sei connesso alla verità, all'assoluto, e lo senti fisicamente, non è una cosa che dici, ah sì, mi sono connesso. Cioè, proprio lo senti a livello del corpo, lo senti proprio perché sei in uno stato diverso, non esistono più paure in quello stato, non esistono più domande. Tutta una serie di dubbi che le persone normalmente provano, spariscono immediatamente. Quindi le persone quando entrano in questa connessione, cosa succede? Tutto quello che è illusione si può sciogliere, si può sciogliere, noi diciamo espandere. Quando tu espandi tutto quello che stai provando, le cose vere, come l'amore, come tutte le cose belle che hai nella tua vita, che risuonano veramente con te e diventano più forti. Mentre quelle che sono illusioni, si svaniscono. Alcune persone addirittura in pochi minuti hanno lasciato andare proprio delle paure molto profonde. Alcune addirittura si sono dimenticati che paura hanno sciolto. E altre persone mi sono trovata a tenere un corso qui a Malaga, intensivo, con poche persone. E una di queste persone è entrata in attacco di panico mentre eravamo sulla cannologia. E gli ho detto, bene carissima, c'è anche scritto nel libro questo. Adesso, per pochi minuti, metti in atto il metodo, perché io dopo poco inizio a far usciare la cannula. Ed eravamo in montagna, quindi era in alto. Sei cattivissima! Sono cattivissima sì, perché comunque le persone devono arrivare al gruppo e devono arrivare al risultato. Lei si è messa a lavorare, dopo un po' io ovviamente ho mantenuto la parola, perché bisogna sempre mantenere la parola. E questa persona mi fa, sai Patrizia, non è passato del tutto ma sono molto tranquilla. Ho detto, wow, ce l'hai fatta. E questo è solo un esempio, perché ci sono persone che dopo aver fatto uno dei miei corsi, connesso al metodo, c'è una persona che è anche segnata sul libro e che potete anche contattare, perché ne sono nome e cognome. Certo. Lei ha vissuto tre mesi e mezzo in stato di grazia. Una persona che ha sofferto tutta la sua vita e da quando ho conosciuto questo metodo lei ovviamente lo pratica, perché è un metodo che funziona solo se lo pratica. Allora, io invito tutti a comprare il tuo libro, a scoprire il tuo metodo. Possono contattarti sui social, ovunque, basta digitare Patrizia Setteeducati, però prima di lasciarci hai un regalino per noi, per chi? Sì, sì, assolutamente. Guardate, ho pensato a un regalo per tutti i telespettatori di Vox Libri, che è un regalo veramente speciale ed è un corso vero e proprio in PDF per sciogliere le emozioni tossiche. Ed è un corso che noi vendiamo a circa 100 euro, adesso non mi ricordo i rotti, però insomma, quello è il valore. E tutte le persone che sono telespettatori di Vox Libri lo potranno avere gratuitamente, totalmente gratuito, ok? Vi lascio solo il link, aspetta che mi siano… No, no, lo faccio mettere dal regista in sua impressione. Ah, lo puoi mettere, sì, sì. E il primo a usarlo sarà proprio lui, guarda un po'. Ma che bello, bello. E poi fatemi sapere com'è andata. Eh, certo, certo. Intanto ti ringraziamo per il bellissimo gesto. Ah, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere e tanto onore a una trasmissione che comunque permette alle persone di crescere a livello culturale. E di amare i libri e divulgarli, Patrizia. Sì, 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 grazie mille per te. Io ti saluto alla prossima e ti aspetto in studio, ci teniamo davvero. Sì, a prestissimo allora. Ciao, ciao Patrizia. Vino alla regia. Sì. 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 Sì.